Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, oggi martedì dominio del sole grazie a un flusso secco settentrionale, domani mercoledì un blando minimo orografico legato al passaggio di un fronte sulle Alpi porterà correnti umide meridionali nei bassi strati e nubi anche compatte. Giovedì espansione dell'anticiclone, rotazione dei venti dei quadranti settentrionali e ritorno del sereno. Il dettaglio oggi martedì 31 gennaio soleggiato su tutta la regione, in serata passaggi di velature anche estese, tendenza a formazioni di nubi basse sul centro ponente, venti deboli meridionali localmente moderati sui capi di ponente e sui rilievi, mare mosso, in calo, temperature massime in aumento, lungo la costa intorno a 14-15 gradi nelle zone interne tra 11 e 14 gradi, domani mercoledì 1 febbraio nubi irregolari più compatte sul centro levante, alternate a schiarite, anche ampia in mattinata, specie sull'estremo ponente, venti deboli e moderati meridionali, mare tra poco mosso e mosso, temperature minimi in aumento, lungo la costa tra 6-8 gradi nelle zone interne tra meno 4 e 1 grado, massime stazionari e lungo la costa intorno a 13-14 gradi nelle zone interne tra 11 e 13 gradi. Dopodomani giovedì 2 febbraio ritorno a condizioni di cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione, venti deboli e moderati settentrionali, in temporanea rotazione pomeridiana da ovest-sud-ovest, mare poco mosso, localmente mosso, temperature minime in calo, lungo la costa tra 6-8 gradi nelle zone interne tra meno 3 e meno 1 grado, massime in aumento, su valori limiti per la stagione, lungo la costa tra 14 e 16 gradi, nelle zone interne tra 13 e 15 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal, sul profilo Instagram dell'agenzia e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play ed Apple Store. A risentirci!